Dopo mesi di tribolazione e disperazione arriva la prima buona notizia per i circa 10.000 obbligazionisti subordinati delle quattro banche oggetto del salvataggio da parte del governo Carichietti, Banca Etruria, Banca Marche e Cari Ferrara. L'esecutivo infatti ha approvato il decreto che stabilisce il principio del cosiddetto doppio binario facendo scattare indennizi automatici o il ricorso all'arbitrato. Il rimborso automatico sarà l'80% per tutti i risparmiatori con redditi inferiori a 35.000 euro e con un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Per gli altri e per le 158 persone che hanno investito dopo il 12 giugno 2014, cioè dopo l'entrata in vigore dell'ormai famosa direttiva europea sul bail-in, ci sarà il giudizio delle commissioni arbitrali. L'80% di rimborso sarà calcolato sul corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni al netto delle commissioni bancarie e dei rendimenti ottenuti. In pratica sarà riconosciuto all'equivalente dei rendimenti dei titoli di Stato. Le risorse arriveranno dal fondo bancario già istituito con la legge di stabilità che ad oggi ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha tenuto a precisare che le risorse non saranno razionate e che non ci sarà il rischio che qualcuno possa restare senza rimborso. Da Bruxelles intanto arriva il via libera alla proroga del termine entro il quale dovranno essere vendute le nuove quattro good bank nate dopo il salvataggio. La nuova scadenza come quella precedente non è stata resa nota ma nelle scorse settimane il tesoro aveva individuato in settembre una data indicativa. Ed è proprio il futuro delle nuove banche a preoccupare i sindacati soprattutto in relazione a possibili ristrutturazioni che potrebbero preludere a licenziamenti dei dipendenti. Le segreterie fisiac cgl degli organismi sindacali dei nuovi gruppi bancari in una nota sottolineano come i dipendenti stiano sostenendo con convinzione il rilancio delle quattro banche ed abbiano già accettato sacrifici occupazionali ed economici. Se le quattro nuove banche devono essere ristrutturate dicono i sindacati si apre al confronto entrando nel merito dei progetti di rilancio. Nel frattempo sempre sul fronte bancario si è conclusa la vicenda aiuti di stato per tercas acquistata dalla popolare di Bari con l'aiuto del fondo interbancario tutela depositi intervento da circa 300 milioni di euro sostituito poi dal fondo volontario emanazione del fondo stesso. Secondo l'istituto pugliese è stato definitivamente riconfigurato l'intervento del fondo del 2014 su banca tercas attraverso un nuovo intervento effettuato da parte dello schema volontario. La popolare di Bari come illustrato nel corso dell'assemblea domenica scorsa per l'approvazione del bilancio ha in corso il progetto di integrazione tra banca tercas e banca caripe che sarà completato entro il primo semestre del 2016.